Il taglio degli istituti scolastici, il cosiddetto dimensionamento previsto dal governo in legge di bilancio, vede l'opposizione di diverse regioni, anche di quelle governate dal centro-destra, come l'Abruzzo, che nel corso della conferenza Stato-Regioni ha chiesto rassicurazioni. Sono 11 gli istituti che dovrebbero chiudere entro i prossimi tre anni. Il ministro Valditar entro il 31 agosto dovrà emanare un decreto ministeriale per rendere operativa la riforma. La FLC Cigelle ovviamente lo impugnerà, poi noi partiremo con delle campagne di sensibilizzazione, faremo delle assemblee dappertutto, aperte, sia per quanto riguarda le novità che ci sono, sul contratto abbiamo ottenuto dei passi in avanti molto forti, però perché sono battaglie che portiamo avanti da tempo, c'è stata una contrattazione molto importante che la FLC ha portato con coraggio avanti, ottenendo anche per i precari molte richieste che noi avevamo avanzato. Dalle 190 istituzioni scolastiche si passerà a 179, ma è solo il primo step. Se il criterio verrà confermato complice il costante decremento demografico, la nostra Regione rischia ulteriori tagli. Basti pensare che l'Istat ha stimato che in Abruzzo nei prossimi dieci anni si perderanno ulteriori 28.000 alunni. La difficoltà di questi tempi è legata anche ad un disagio giovanile diffuso. Noi abbiamo più di 3.200 insegnanti di sostegno richiesti quest'anno per la Regione Abruzzo. Che significa? Significa che noi abbiamo una fragilità delle nuove generazioni che va affrontata potenziando le scuole. Cioè le scuole devono essere potenziate in che senso? Che devono essere aperte, devono stare sui territori, devono essere collegate, devono avere dei servizi efficaci, efficienti, devono costruire intorno ai ragazzi la possibilità di un futuro. Da non dimenticare anche che i nuovi parametri secondo la CGL dovrebbero tener conto anche di particolarità territoriali. Noi abbiamo un territorio che è particolarissimo dove a fronte di una popolazione che è di 1.200.000 abitanti è un territorio molto ampio, abbiamo delle province che si estendono per aree molto vaste con dei comuni montani dove non esistono servizi e dove la scuola rappresenta un presidio importante.